Studio 7 TV e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Benvenuto alla nuova puntata, abbiamo ospite un cantautore, Guasto Allora, la prima domanda che sorge spontanea, perché non ti conosce? Come racconteressi e descriveressi oggi Guasto e soprattutto se è Guasto oppure se è sano? Sono Guasto, è un Guasto interno fondamentalmente, è un po' come il motivo per cui ho scelto questo nome perché mentre andavo a registrare in studio da questo amico trovai questo ascensore con questo cartello enorme lettere cubitali, scritto Guasto e salendo le scale mi venne in mente un po' in salita e con l'affanno un po' come la mia vita, da allora poi mi perseguitò questo Guasto, lo vedevo ovunque fuori ai bagni, sulle macchinette dei preservativi, lo vedevo ovunque quindi da allora ho deciso, un po' mi ha cercato, un po' lo cercavo e un po' mi ha trovato lui e quindi poi è rimasto Guasto, ho scelto Guasto come nome d'arte e lo sono fondamentalmente ma credo lo siamo un po' tutti Guasti, chi più chi meno ognuno ha delle cose da risolvere dentro che ci rendono un po' Guaste forse appunto hai già descritto in person un pochettino la tua, a questo punto passiamo a parlare dell'ultimo singolo quando nasce questo brano come è tratto d'ispirazione, poi alla fine come sei riuscita a arrivare a questo risultato finale? Allora il brano è nato durante un weekend con un amico di piacere appunto ad Amsterdam è un po' la città della perdizione per Antonomasia, quindi è un po' una città in cui è facile perdersi ma anche proprio geograficamente, a volte i canali, quelle stradine sono tutte uguali e mi sono perso tante volte, mi piace perdermi tra l'altro in città che magari non conosco come ovviamente la mia Napoli e mi piace diciamo cercare nuove, vedere cose nuove poi insomma è nata proprio da questo momento di benessere che io ho percepito durante quei tre giorni lì mi sentivo veramente grato ma con la vita, nel senso mi ha invaso questa sensazione di pace con il mondo proprio mi sentivo, mi ricordo che camminavo per strati e dicevo che bello, che bella la vita e quindi questa sensazione poi l'ho portata a casa, l'ho portata dentro di me ho iniziato a scrivere il testo di questa canzone che non parla solo del mio viaggio ad Amsterdam ovviamente non è insomma solo quello, Amsterdam per me è anche una donna, è un allucinogeno può essere qualsiasi cosa, mi piacerebbe che ognuno vedesse qualcosa in quest'Amsterdam non è Amsterdam intesa come città, la mia gita ad Amsterdam in quel senso non è quello c'è tanto altro insomma che racconto nella canzone che insomma è un po' il senso di quello che ho scritto Amsterdam è un sentimento di benessere ecco in quel senso Il brano come tutti gli altri tende un po' il tuo stile a questo punto si nota che tende a fare un po' più stile dance anni 80, anni 90 Sì, io adoro quelle sonorità, insieme infatti ai miei produttori che saluto Mauro Spenillo ed Antonio De Carmine con cui lavoro da ormai tre anni, quattro non so, ho perso il conto, però lavoriamo alla grande perché abbiamo proprio gli stessi gusti anche musicali quindi poi è facile collaborare con persone in cui diciamo trovi questo tipo di affinità insomma, cioè nel senso io scrivo il pezzo magari con la chitarra, dico vai io ho un'idea e poi è bello vedere quando prende forma le sonorità sì sono quelle ma anche con i miei singoli precedenti insomma, con In Che Senso, con Che C'è da Accendere, con Funky sono tutte sonorità anni 70-80 tendenzialmente quindi un po' il mondo è quello poi prima ero più magari in un periodo funkettone super funky, però non è che, nel senso per me le canzoni nascono in base a quello che vivi in quel mood è uscito qualcosa di non funky, però non sono solo funky come non sono solo questo la musica è un po' tutto, è bello abbracciare anche vari generi ed è bello anche, ed è anche quello che poi porta all'unicità penso della persona cioè ascoltare anche tanta musica, tanti generi e non fossilizzarsi, non mi piace neanche essere etichettato in un solo modo, in un solo genere mi sento liquido in quel senso, come dico anche nella canzone, liquido tra la gente però sicuramente il mondo è quello, come dici tu, anni 70-80 è suonato dal vivo sicuramente in questo tempo, in questo periodo, in questi anni questo anno e qual è la sensazione quando sali sul palco, qualche tuo collega anche un pochettino importante cioè a volte salendo sul palco dici ma perché lo faccio poi quando ti si apre la quarta platera, avanti c'hai il tanta gene comunque da poca a tanta e vedi l'emozione che poi cresce a quel punto capiscono quale sensazione trovi tu avendo questo pubblico davanti ma sicuramente quando vedi poi che il pubblico apprezza magari sia quello che canti e magari quando vedo di trasmettere un'emozione che provo anche io sul palco è quello un po' il senso poi per cui chi inizia come me questo mestiere vuole poi farlo per tutta la vita insomma e ti fa sentire anche un po' meno solo magari live insomma c'è pensare che altre persone sentono quello che tu hai scritto nella cameretta è anche molto confortante insomma quindi ti fa sentire sicuramente meno solo di quando la scrivi nella stanzetta nella cameretta da solo con la chitarra sicuramente quindi poi è bello è bello condividere poi con altra gente la stessa lo stesso sentimento la stessa emozione invece quando poi scendi al palco che incontri la gente volte a farti complimenti quando si vede un selfie o comunque un qualcosa di tangibile quale sensazione proprio perché poi ti fanno a volte ti fanno delle domande inerente al testo ma a volte ti fanno domande anche tecniche ma rispondere con con e vedere il sorriso la gioia davanti quale sensazione proprio in quel caso poi ma è di felicità di gioia sicuramente non è il fatto di come dicevo prima anzi mi fa piacere proprio la anche la contaminazione anche un modo per conoscere tanta tanta gente nuova insomma quindi io poi amo conoscere sono una persona molto curiosa quindi sia se parliamo di persone sia se parliamo di posti, di viaggi, di paesaggi cioè mi piace conoscere sono una persona molto molto curiosa quindi è un motivo in più anzi è anche una scusa per conoscere ancora più gente questa quella di fare musica nella realizzazione dei tuoi brani nasce prima un bit, un riff oppure nascono prima le parole oppure diciamo accidentalmente nascono insieme diciamo dipende dipende a volte capita che segno delle frasi che mi sono venute in mente sul cellulare poi magari le riprendo dopo mesi poi magari sto con la chitarra e faccio un giro e mi viene fuori una melodia insomma è molto non ho una regola ben precisa dipende un po' dipende insomma non ho una metodologia ben precisa però di solito parto quasi sempre comunque da una frase da una frase che mi viene in mente e poi da lì cerco di sviluppare tutta la canzone accompagnandomi con la chitarra quindi nasce un po' random insomma come puoi e invece nella realizzazione dei testi previsce più essere un po' più sintetico un po' più un po' come l'inglese che oppure come nel trap nella trap un po' più prolisso nella descrizione del testo guarda diciamo che mi sto evolvendo nel senso che ho iniziato comunque scrivendo tanto tante parole cercato di incastrarle poi piano piano sto capendo che magari essere un po' più e che non è facile assolutamente diciamo coincisi nel testo potrebbe essere una qualità in più insomma è molto più complicato dire poche parole esprimendo un concetto che dirne tante pure perché si perde un po' il concetto quando dici tantissime parole la gente tende credo almeno un ascoltatore medio tende a perdersi mentre invece dire un concetto esprimerlo bene con poche parole penso che sia molto più efficace forse quindi però ci sto lavorando ci sto lavorando ancora quindi non si smette mai di di poi apprendere e cambiare un po' la propria prospettiva pure nel nel modo di scrivere nel modo di arrangiare magari tra un anno non lo so canterò in un'altra maniera su un altro genere non ho idea mi sto evolvendo siamo siamo in tutti in fase di evoluzione perenne quindi però però sì come come ti dicevo un po' così dipende abbiamo visto la copertina di Amsterdam questo pub questo locale comunque nella pieni ombra come nasce questa copertina da chi è data l'idea questa copertina? no in realtà non è un locale ero su su un battello praticamente quelli turistici che ti fanno fare il giro dei canali di Amsterdam e proprio durante quella sensazione di di benessere che ti dicevo che ho provato ho scattato questa foto che poi ho utilizzato come immagine di copertina perché penso che immortalava proprio quella sensazione quel momento e poi anche sai diciamo il comandante non saprei come chiamarlo che diciamo cioè stavamo scendo fuori da questo tunnel quindi era è anche molto secondo me significativa come immagine rappresentativa di quel momento ci sono artisti in cui ti sei ispirato tra ispirazioni tenendo presente che poi tu vieni in un mondo napoletano dove la musica è il pane o forse l'aria della stessa città forse più l'aria che il pane ti dico nel senso che adesso sono infatti mi sono trasferito a Milano da poco o meglio io sto cercando casa perché Milano Napoli credo sia veramente è una città piena zeppa di talenti che però però non ci sono proprio le le strutture i locali non ti fanno esibire live con dei progetti inediti di andare a fare cover cioè si fatica si fatica quindi tanta aria e poco pane direi qual è la domanda riguardo aria e pane mi sono perso nel vedi gli artisti in cui ti sei ispirato comunque tra ispirazione o comunque ascoltandoli nel tempo ti hai accorto comunque un pochettino è tratto ti hanno fatto anche crescere gli artisti sicuramente Pino Daniele diciamo è stato proprio mio papà artistico nel senso che è stato il motivo per cui mi sono avvicinato alla musica mi sono avvicinato da uno strumento musicale quindi è stato lo ringrazierò a vita per questo e poi ci sono tanti artisti che mi hanno segnato come magari anche Lucio Dalla bel cantautorato italiano tutto praticamente De Gregori De Andrè Battisti tantissimo e anche tanti artisti della scena magari attuale come Willy Peiote che mi piace tantissimo come stile nei testi mi ci rivedo tantissimo Salmo anche vedi poi vario anche tra i generi insomma non è Franco 126 vabbè poi diciamo tanta tanta musica black insomma quindi che ascolto e che poi mi dà ed infatti io cerco sempre nelle mie canzoni di mescolare sempre un po' di sano cantautorato almeno ci provo insomma a modo mio e con contaminazioni anche più funky blues quindi cercando un po' di questa secondo me è un po' il guasto è un po' un insieme di cose insomma quindi un insieme di generi che si incrociano che si incontrano con 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 il cantautorato insomma ben saldo perché poi è quello che sono sono molto legato ai testi e faccio sempre molta attenzione prima di scrivere magari sono molto diciamo pragmatico su queste cose no? cerco di essere sempre molto attento prima di scrivere una parola magari ci metto anche un mese per dirti quindi questo è il guasto insomma è un insieme di 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 generi con il cantautorato insomma a farla da padrona come come testi secondo te quanto è importante il giornale in avvio ma soprattutto con le nuove piattaforme Spotify YouTube Music e tanto questo c'è il rischio che poi effettivamente il valore della della musica si vada a perdere perché entri uno in un circolo dove ci sono 500 mila brani un milione di brani e c'è il rischio che giovani in cui non possono crescere ma possono anche perdersi in questo mondo ma guarda Spotify è una piattaforma che ti fa sentire fintamente libero insomma di però poi alla fine è sempre non sei mai tu a decidere insomma no quindi poi è sicuramente una forma il fatto il fatto è che c'è tantissima concorrenza in più rispetto a prima è meno molto meno selezione meno attenzione alle canzoni proprio perché anche ce ne sono troppe che escono ogni settimana cioè veramente impensabile che un ascoltatore possa ascoltare tutta la musica che esce no quindi la differenza di prima è proprio secondo me nell'attenzione dell'ascolto va bene tanta musica di merda che c'è scusami passami il termine però non c'è la stessa cioè c'è solo un determinato tipo di musica l'altro è proprio completamente accantonato se cerchi di fare qualcosa un po' più che non sia in quei in quei codici insomma fatichi fatichi però è anche l'unicità viene fuori sempre un po' dopo diciamo che io soffro un po' di questa di questa di questa mancanza di proprio attenzione cioè io sono magari un po' nostalgico su questa cosa però magari quando prima compravi un vinile andavi a casa e lo ascoltavi tu quel disco te lo squagliavi nel senso lo sentivi tutto lato A lato B tutti i testi le parole questa cosa si è persa ovviamente perché non c'è proprio cioè la musica ormai è quasi diventata un sottofondo è tristemente vero questa cosa cioè se la senti nei locali passano delle canzoni ma questo è cioè la gente è come se questo cioè non c'è più gente che ascolta che ama la musica come prima che la l'ascoltatore medio parlo poi parlo sempre di un ascoltatore medio però purtroppo è così prima anche l'ascoltatore medio capito sapeva ascoltava e faceva attenzione adesso no perché diciamo si perde un po' in questo mare di musica da cui siamo circondati ormai e non riesce a distinguere più il mare bello da quello brutto fondamentalmente forse no si fa un po' di fatica in questo viaggio lungo viaggio che ci porta a sentire la musica a questo punto progetti futuri oltre a promozioni di questo disco che è da poco uscito ci sono altri per poter arrivare a fare un EP oppure anche un LP ho parlato una parola molto complessa per questo periodo ma guarda credo che proprio per il discorso che ho fatto prima della poca attenzione credo che oggi fare uscire un LP non so quanto convenga nel senso penso sia molto più intelligente oggi fare uscire un pezzo alla volta almeno ti concentri su quello ascolti quello perché voglio far uscire dieci canzoni per dirti sei canzoni per un EP e poi magari alcuni alcuni se le perdono è meglio che le fai uscire una alla volta almeno l'ascoltano con più calma e attenzione sono i rubi sono tre minuti e non venti capito a questo punto prossimi appuntamenti al vivo oppure guarda sono come ti dicevo mi sono trasferito da poco a Milano quindi sono proprio in una fase di completo cambiamento è completa rivoluzione nella mia vita proprio perché sono andato via da Napoli quindi sto ricomincio da tre come diceva Troisi quindi vediamo vediamo un po' vediamo un po' sono in fase di costruzione dovrei incontrarmi con altri musicisti voglio iniziare a fare live qui a Milano e a fare a fare insomma un po' di serate qui comunque ti permettono di esprimerti almeno con la musica d'autore ci sono locali che ti permettono di farlo quindi spero molto molto presto l'ultima cosa tu hai citato musica d'autore hai detto una parola complessa di questi tempi perché i talent e tutto questo stanno trasformando un pochettino tutte queste cantanti in belle immagini ma poi dietro il contenuto se non c'è nessuno che faccia musica d'autore poi si perde c'è il rischio che si perga ma penso che non non bisogna confondere diciamo la televisione dalla musica che sono due cose completamente diverse cioè i talent nei talent di musica ce n'è poca insomma cioè credo che e sono uno che ci ha provato perché ho provato a fare dei talent e non parlo in maniera rancorosa parlo in maniera obiettiva è una questione semplicemente di è una vetrina che che può diciamo aiutarti diciamo ad accorciare un po' il processo per arrivare magari dove voglio però allo stesso tempo comunque sai che è una televisione cioè televisione sei in televisione quindi non non decidi molto di quello che va in onda esci un po' come tu firmi per uscire come vogliono loro e ti fanno cantare magari le canzoni che vogliono loro e mi è capitato quindi diventa tutto tranne che musica magari non so se vedi Breaks Factor ci sono alcuni obiettivamente bravi altri magari un po' meno però vengono utilizzati per scusami il termine utilizzati che è bruttissimo però in fin dei conti sì per fare audience in quel momento serve una persona sono tante le dinamiche e c'entra poco la musica secondo noi magari due gemelli già abbiamo due gemelli altri due sono bravi uguali ma non li prendiamo perché già abbiamo i due gemelli per dirti questa potrebbe essere una delle motivazioni per cui ti scartano da un talent e quindi veramente c'entra poco 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 con la musica che talent hai fatto? visto che hai citato un talent io non ho provato The Voice nel 2006 ma arrivai alle oddio quando si devono girare le sedie non ricordo neanche come si si chiamava le blind no quelle no non lo so sto confondendo forse i talent e e niente vabbè X Factor ci ho provato più volte ma non non mi è mai stata data l'opportunità di arrivare magari anche più in fondo e e quindi questo si continua a fare musica finché finché qualcuno non si accorge di te prima o poi si accorgeranno e dice hai rotto le palle stai da spero spero in quello per sfinimento io vado per sfinimento cerco di prenderli per sfinimento vabbè The Voice poi ha chiuso quindi e vedi alla fine non era tutto questo ascolto perché poi alla fine è rimasto solo Junior e Junior quindi mi pare che il principale The Voice ha chiuso i battenti ma Amsterdam ancora non ha un videoclip ci sarà oppure no non so se ce l'avrà dipende un po' non lo so può essere anche che lo genero andrò a farmi un altro weekend ad Amsterdam e farò un video col cellulare non ne ho idea magari no magari non lo so al momento non lo so al momento abbiamo cercato di ho pensato di voler far uscire tutte le le canzoni che ho scritto in questo anno in questi due anni e vorrei farle uscire a distanza di di un mese due mesi l'una dall'altra questa sarebbe l'intenzione poi vedremo dove mi porterà la musica vedremo magari uscirà un disco non lo so dipende chissà e a questo punto a questo punto ci mandano due cose fondamentali nel nostro racconto poi ci riascolteremo ci rincontreremo altre volte i tuoi indirizzi dove potresti raggiungere potresti ascoltare e i saluti finali ok allora su instagram mi trovate come guast guapunto sto tutto minuscolo su facebook c'è la pagina guasto facile e poi mi trovate mi potete ascoltare ovunque su spotify su youtube amazon music tutte le piattaforme digitali possibili e immaginabili quindi andate a ascoltare amsterdam e spero di far uscire presto il prossimo singolo e nel frattempo ascoltare amsterdam anche dislessico studio set tv e sport piccelo game hanno presentato l'intervista di pietro ospite della puntata di far uscire presto di far uscire presto Grazie per la visione!